Amici di Resbellica, oggi siamo con Aldo Brianzi, presidente dell'associazione Teutaner Tobacos, dedicata alla ricostruzione dei guerrieri gallici del IV e III secolo a.C. La maggior parte dei reperti che indosso sono stati ritrovati a Monte Renzio e Monte Bibele, in provincia di Bologna, una delle necropoli più ricche del panorama italico. Questo guerriero è un guerriero di rango alto, quindi molto probabilmente un nobile, se non addirittura un capo tribù, con ruoli di comando in battaglia o comunque di fanteria pesante di elite, quindi con ruoli di sfondamento, prima linea e molto probabilmente anche ruoli strategici di livello alto. Uno degli elementi più importanti di questa panoplia è l'elmo. L'elmo appartiene alla grande famiglia degli elmi Montefortino, una delle tipologie di elmi più diffusa in tutta la penisola italica. Nel caso particolare, questo è un elmo Montefortino a paragnatidi, cioè paraguance trilobate, con decorazioni in bronzo. La forma e la fattura di questo elmo ci racconta di un guerriero di alto rango, infatti presenta delle decorazioni in bronzo, sia sulle tempie che sulla fascia frontale. Uno stilema questo tipico di moltissimi elmi gallici di questo periodo. Le paragnatidi hanno un caratteristico gancio all'estremità che ci hanno lasciato presupporre una chiusura fatta con un semplicissimo cordino. Altra caratteristica importante di questa tipologia di elmi è il paranuca. Serve in realtà per incastrarsi con la parte superiore della corazza ed evitare i colpi di frusta. Il bottone apicale, molto caratteristico di questa riproduzione, è molto grosso e probabilmente presentava in origine delle decorazioni in smalto rosso, perché negli ultimi studi sono state ritrovate delle microscopiche particelle di smalto proprio su questo bottone apicale. Vi ho parlato di una riproduzione e infatti per riprodurre questo elmo noi ci siamo ispirati all'elmo ritrovato nella tomba 14 di Monterenzio, nel dettaglio a Monte Vivele. Un altro importante elemento di questa panoplia è lo scudo. Questo scudo è il tipico scudo gallico allungato di forma ovale, di una dimensione importante, in grado di coprire quasi tutto il corpo del guerriero in una posizione di guardia. Presenta un rinforzo metallico al centro dello scudo, all'altezza della mano, detto umbone, e una parte centrale in legno che dà forza e resistenza a tutto lo scudo, detta spina. Altra caratteristica importantissima sono le due bordature metalliche che troviamo in alto e in basso. In alto per difendere lo scudo dalla maggioranza dei colpi che arrivavano dall'alto e in basso per portare molto probabilmente colpi offensivi di questa tipologia. Per le decorazioni di questo scudo abbiamo scelto due elementi tipici dell'arte gallica. Uno, questo, è un uomo con corna di cervo. In questo caso il disegno è preso direttamente dal calderone di Gundestrup, un famoso reperto trovato in Danimarca. E raffigura la divinità nota come Cernunnos, una divinità che era probabilmente la divinità degli animali e della natura. Cernunnos ha le caratteristiche di una divinità cornuta di attributo maschile. È una caratteristica che troviamo in tantissime divinità dello stesso periodo e della stessa area. Per nominarne soltanto due, Silvanus tra i romani e Pan tra i greci. Quindi è probabile che fosse una tipologia di divinità molto diffusa tra i popoli di quel periodo. L'altra invece è la cosiddetta ruota di Taranis. Raffigura una ruota di carro ed era l'attributo tipico di Taranis, il dio degli eventi atmosferici, dei tuoni e dei fulmini. Perché è stata attribuita proprio a Taranis? Perché Taranis, essendo il signore dei fulmini, dei tuoni e degli eventi atmosferici, aveva con sé una ruota di carro che portava il rumore del tuono. Chiunque abbia mai sentito ruotare una ruota di carro su strade sassose, una ruota di carro in legno, si accorgerà che è un rumore molto simile a quello dei tuoni. Un altro elemento fondamentale di questa paloplia è la corazza. Noi abbiamo scelto di non indossare nessuna corazza di tipo metallico, poiché nelle tombe della necropoli che andiamo a riprodurre non è stata trovata nemmeno una. Quindi le nostre armature sono interamente organiche. Nel mio caso questa è un'armatura detta con il termine greco spolas, quindi un'armatura in cuoio. Sono 3 mm di cuoio ed è un'armatura che regge egregiamente sia ai colpi di taglio che ai colpi di punta. Perché scegliere questa tipologia di armatura? Abbiamo tantissimi riferimenti nella statuaria transalpina, per dire c'è un famoso busto di Roque Pertuse e ce n'è un altro a Glauberg. Ma noi abbiamo scelto di riferirci nel dettaglio a un modello etrusco, cioè l'armatura della tomba dell'Orco, che è raffigurata in un affresco della tomba dell'Orco. Perché proprio i Galli di Monterenzio avevano delle particolari commissioni culturali con gli etruschi e abbiamo scelto di ispirarci a un motivo geograficamente più vicino. Il modello dell'armatura è quello ricorrente nella maggior parte delle armature organiche di questo periodo, cioè il cosiddetto modello a tubo e gioco. Cioè a dire un tubo che è quello che avvolge il corpo, che è un unico pezzo di cuoio fissato sul lato che imbraccia lo scudo, e un gioco che è questo, che va a creare gli spallacci che quindi proteggono la zona delle clavicole e del collo dai colpi dall'alto. Altro elemento fondamentale di questa armatura sono le frange, anche queste con un termine greco definite pteriges, e sono queste, servono a lasciare protezione alla zona inguinale senza tuttavia precludere le possibilità di movimento. Infine, le decorazioni. Perché abbiamo scelto un'armatura così colorata? Perché i Galli erano noti per andare in battaglia con il massimo sfarzo possibile, cercando di farsi notare il più possibile, proprio nel concetto del guerriero, che deve farsi vedere, le sue geste eroiche devono essere ricordate. E quindi un guerriero di alto rango ha colori molto accesi, il rosso, il giallo e il blu. Tutti colori che già di per sé indicano un particolare status sociale. Il motivo a quadri lo troviamo ricorrente in tantissime armature, oltre a quelle che ho già nominato transalpini, anche quella di Filottrano per esempio, a questo motivo. Il motivo della fascia qua sotto a Palmette, invece, è ricorrente soprattutto nella nostra zona. Il fregio a Palmette è proprio una cosa tipica della zona boica e va a testimoniare la commistione con l'etrusco. I Galli, abbiamo detto, andavano in battaglia vestiti in modo sfarzoso e cercando di farsi notare. Per fare notare il proprio status, un'altra cosa fondamentale erano i gioielli. I gioielli che io infatti indosso. Il primo, in assoluto, è il TORC. Il TORC che indosso è la riproduzione di un modello francese, perché i TORC boici non sono stati trovati, salvo rarissime eccezioni, proprio perché Livio ci racconta che, dopo la battaglia di Talamone, tre carri interi di TORC furono presi, portati a Roma e fusi. Questa è una cosa molto grave per i Galli, perché il TORC è proprio il simbolo dell'uomo libero, un collare aperto che quindi rappresenta il simbolo dell'uomo libero. È una sorta di identità per un guerriero celta. Poi l'Ambra. L'Ambra era un oggetto molto ricercato tra i Celti, tant'è che addirittura a quell'epoca i più abbienti la facevano arrivare addirittura dal Malbaltico. Altra cosa fondamentale, sempre molto vistosa e molto gradita ai Galli dell'epoca, le perle di vetro. Venivano realizzate in un forno apposito. A questa collana in perle di passavitria io ho scelto di attaccare un dente di cinghiale. Il cinghiale è un animale importantissimo per i Celti, raffigurato innumerevoli volte in standardi e in segne e un animale probabilmente simbolo di forza e di virtù guerriere. Infatti era uno degli animali più inarrestabili che ci fossero nel nostro territorio. Passiamo a presentare gli elementi offensivi di questa panoplia. Il primo, sia in ordine di utilizzo che in ordine di importanza probabilmente, è il giavellotto di tipo pilum, utilizzando un termine latino. Questo giavellotto è un giavellotto che veniva scagliato durante la prima carica e andava per la sua forma a impegnare gli scudi nemici e ad avere una forza di impatto devastante, tanto che poteva anche passare direttamente lo scudo da parte a parte. Inoltre, avendo la parte terminale in ferro dolce, molto spesso dopo l'impatto si piegava e non poteva più essere utilizzato. Quindi il nostro avversario non poteva più lanciarcelo contro. Anche in questa occasione abbiamo visto l'utilizzo del giavellotto pesante, chiamato in latino pilum, che consideriamo caratteristico del legionario romano, ma che in realtà abbiamo già visto nel video dedicato al legionario del tardo antico. Abbiamo visto nel video dell'oplita etrusco e vediamo oggi anche nel caso dell'armamento di un guerriero aristocratico gallico del IV secolo a.C. Come mai questa presenza che ritorna nei nostri video? Perché è questa arma che noi generalmente siamo abituati ad associare al legionario romano, è in realtà un'arma che ha origini piuttosto antiche, infatti le sue origini vanno ricercate in ambito italico probabilmente attorno al VI-V secolo ed è lo sviluppo di un'arma da getto che si specializza per la corta distanza e per avere un impatto devastante grazie a una lunga e pesante punta in ferro. Questa arma diventa comune praticamente in tutti gli eserciti italici dell'antichità e la sua efficacia è tale che il suo utilizzo arriva fino a tutto il tardo antico. Non veniva utilizzata soltanto da truppe di origine italica né dalle legioni romani, ma sappiamo che anche strumenti simili erano utilizzati dai popoli germanici dell'età posteriore alla nascita di Cristo. Un altro elemento fondamentale delle armi offensive galliche è la lancia, lunga due metri e mezzo, dalla parte terminale cosiddetta apera, riproduzione anch'essa di una delle tombe di Monterenzio, e nella parte posteriore un tallone, anch'esso in ferro, utile per fermare la lancia per terra o nelle situazioni di combattimento ravvicinato. La lancia veniva impugnata molto spesso in una maniera simile a questa e veniva fatta sporgere dagli scudi in modo da trovarsi una selva di lance di fronte rendendo quasi impossibile avvicinarsi al guerriero. Nonostante la sua lunghezza, è un'arma tuttavia molto maneggevole e molto efficace. E passiamo all'elemento più affascinante tra le armi offensive dei Galli. La spada. Eccola qua. In un fodero metallico, è una spada molto lunga, più lunga della maggioranza delle armi italiche di quel periodo. una lama di 75 centimetri affilata da entrambi i lati adatta a portare ampi fendenti ma anche, all'occasione, colpi di punta. Perché è così importante il fodero metallico? Il fodero metallico, il cui cinturone subisce varie evoluzioni, quello che indosso io è quello più antico, quello di IV secolo, consente al guerriero di muoversi liberamente senza avere alcuna impaccio, poiché la spada non finirà mai tra le gambe. Quindi si può agevolmente correre e saltare. Inoltre, consente un'estrazione molto facile senza essere di alcun impaccio all'uomo che si ha di fianco. Perché con un gesto come questo io posso estrarre la spada e trovarmi già in guardia in una posizione offensiva. Questa riproduzione è arrotondata in punta e senza filo poiché viene utilizzata nelle ricostruzioni di battaglia che noi facciamo. Ringraziamo Aldo Brianzi dell'associazione Teuta Nertobacos per questa bella presentazione del guerriero aristocratico gallico e se vi è piaciuto vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale. Quindi alla prossima!